Il sangue è vita, ma non è una risorsa infinita. Bisogna alimentarla con le donazioni. Terminato il 2022, adesso FIDAS guarda il futuro. Il 2022 si è chiuso con una defezione di 1.588 donazioni e un grande ringraziamento, ma grande grande, a tutti i responsabili e volontari di FIDAS Vicenza, perché abbiamo fatto un grandissimo lavoro, abbiamo fatto tutto quanto in nostro possesso per cercare di andare a diminuire tanto questo gap. E quindi veramente un grande sforzo abbiamo fatto e siamo riusciti in una grande impresa. Il 2023 per FIDAS inizia con grande voglia di tornare a donare, ma quest'anno decolla un'iniziativa innovativa, FIDAS V Lab, con l'obiettivo di creare spazi di incontro e formazione, con assemblee per tutti i volontari del dono del sangue, con laboratori pratici su singoli temi. Si tratta di eventi promossi in vari step, l'11 e il 18 di febbraio partiamo con gli adempimenti normativi privacy che sono obbligatori per la nostra organizzazione di volontariato, per poi andare a lavorare sulla gestione della contabilità altrettanto importante e tenere come punto fermo quelli che sono i nostri temi core, diciamo quelli che vanno a lavorare sulla chiamata associativa, sugli eventi esterni e quindi le attività di propaganda e sensibilizzazione al dono del sangue, nei gazebi, nei vari eventi che FIDAS promuove attraverso i gruppi e le zone. Gli eventi di FIDAS V Lab continueranno per tutto il 2023, mese per mese, nel segno della formazione e dell'informazione. Per un volontariato più efficiente e più di qualità è una grande informazione per tutta la cittadinanza.